Oggi dobbiamo andare al nostro rifugio e parlare di cose, c'è un piano, dobbiamo parlare di cose che non lo posso dire qui e dobbiamo trovare anche rinforzi perché la nostra banda ora è povera, ci servono rinforzi. Andiamo a provare di qualche corpo, perché non lo posso dire di solito, dobbiamo pagare altri ricordi, come se vogliono venire ho messo, ce l'ho detto a un mio amico, credo che oggi vengono, vengono qua. Andiamo al rifugio, questo posto segreto. Andiamo al rifugio. Andiamo al rifugio. Andiamo al rifugio. Cosa vuoi? Che buono! Voi siete con la banda di cui non ho parlato tanto? Sì. Cosa vuoi per entrare? Ah, tu sei che ti ho mandato... Parisi! Sì, lo ho mandato io. Cercare di buonissimo. Tu sei buono? Sei la prima ragazza. Devo fare la prova. Stiamo discutendo di un coppio. Un altro, ecco così. Questo è abbastanza. È questo che mi hai mandato da voi. Voglio entrare nella banda. Tu sei fuori tu? Sì. No, ti farò entrare. Tu mi hai fatto il tradimento l'altra volta. Ma più nella cosa! Questa volta ti farò entrare perché... ti voglio fare perché abbiamo bisogno di uomo. Tu mi sembri... una persona veglia, no? Per me. Per me. Arzegno. Proprio di ogni cosa. Deve essere coraggioso e avere forza. Cosa vai? Sì. E con la giostra? Sì. Scusa capo, ma quella è la motocicola per le rapide? Abbiamo ucciso i padroni di questa casa. Ce l'abbiamo preso noi. Non l'abbiamo ucciso noi, ho sbagliato. L'abbiamo ucciso i nostri... Sì. Non lo vedete, non lo vedete. Devo portare proprio la pelle. Ma vedi, che c***o lì... Sì, la palla! Non ci sono più facili di te. E basta, le pelle, non ti muovono! Eh, così, così ti voglio. Basta, così ti voglio. Andate a farlo così a questo... Devo dire il caffiola. Io sono il capo. E il mio uomo. E il mio uomo è il c***o. Stai, stai riunendo. Lo riuniamo, guarda! Flora, di che cosa discutiamo? Stiamo discutendo. Vabbè, voi prima dovete fare la prova di entrata. Allora è meglio che prima facciamo le prove di entrata. Questo bacio là si è rotto. Scusate, fare la prova di entrata. E in che cosa consistono? Dovete andare a fare un piccolo colpetto. Sapete dove c'è... La Cray? Sì, il percray. La banca! No, tu io scazzo, ma due di l'estate andate in banca. Ma siete pazzi? E non fate i nomi, la prima cosa. Aia, non dovete fare i nomi. Va bene, qua va bene. Se vi prendono, non dovete fare i nomi. Sì, sì. Va bene. Ora voi andate dalla Cray, alla Super Cray. Sì, sì. Dovete fare... Voglio che mi portate 500 mila. Va bene? Pure il resto. Una cosa, ragazzi. Al passo montagna, ce lo metti? Sì, vado. Torno. Andiamo. Andiamo e torniamo. Andai. Capo, prendiamo anche le armi con noi? Le? Le armi! Sì, sì, prendetelo. Mi sono volato. Ma, mi sembra un po'... Ma, mi sembra un po'... Ma, mi sembra... Non so se ci portano i salti. Sì, guarda, guarda, guarda. Gaccio. Dalla bacio. Allora, sono passate un'ora e mezzo. Tu pensi, un po' con un te, ce lo facevamo. Voglio vedere se un po' io non arrivo. Speriamo che a me non porteremo all'oppo. Siamo, siamo, siamo. Ecco, mi sembra di solito. Il capo te racconti. Capo! Abbiamo tutti i soldi. Ma ci vedete, ecco i miei anni. Ecco. Vado a vedere. Tu li cacciugli. No, non ti senti. No, vai. Non lo faccio vedere. Vediamo la buona vendita. Quanti fai i dollari. E' bello. Capo, questi soldi. Li nascondiamo. Questo è un po' dentro, capo. Bravo. Non è il compenso? Non è il compenso. Vuoi le ricompense? Sì. No, 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 questo no. Ti pago quando lo dico io. Va bene. Hai capito? Sì. E' zitto. Allora, ora avete portato. Ma sicuro che non avete visto qualcuno? Quando ti ha visto? Quando hanno... Andate a mettere la polizia, voi già ero qui. Sì. Allora. Non si guarda neanche davanti a fare. Vedere. Non si guarda venire. Sì. Sì. Non avete visto qualcuno? No. No. Non vedo le tessere. Al capo, non si parla così. Vieni a vedere che è bello. Non me l'hai. Bravo, tu e' giallo. No. Vieni a vedere che è bello. No, è troppo grande quello. Ma poi c'è molta gente. Dobbiamo fare un corso. Alla parte. Ma dico. No. Devo prendere la pistola. Allora. Pobanila. Dici, dici, capo. Che gli mani a tutti e due io. Eh? E' roba? Ora smettiamo. Proviamo di così. Se fanno gli mani a tutti e due. Ah, che me l'hai tu, eh? Ti pare che qui c'è a cazzare. Come in direttante. Eh? Eh? Ahia. Tutti mi perla l'ora. Lasciano l'altare. Oh, basta. Non voglio. E ti vieni a fare da te buffone. Se no, io vi caccio i gudelli. Così, così deve essere un amico. Eh, che ti guardi? Mi è? Stai zitto? Porca. Dobbiamo parlare di questo porco. Dobbiamo parlare di questo porco.